Ciao a tutti ragazzi, benvenuti finalmente in un terzo episodio, stavo per dire il secondo episodio Siamo nel terzo episodio della set, con questo video andremo a seminare in notturna E soprattutto andremo anche a torriviare il nostro bellissimo campo a frumento Trebiatura molto 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 old style, è molto molto bella come trebiatura E quindi gustatevi il video e niente, oggi sono qui per non continuare il discorso dello scorso video Perché comunque ho notato che secondo me il video è un po' troppo monotono Forse, cioè nel senso monotono che ci sono argomenti forse fuori tema E si parla di più argomenti in tutto il video, si parla di più argomenti Invece mi piacerebbe molto di più seguire un tema e focalizzarmi su quel tema lì Il tema di oggi è il tema delle mappe, mappe molto particolari Mappe ad esempio come una bellissima mappa che presto uscirà Ovvero la Mappa Italia by Edomod Che vi ricordo di seguirlo su Instagram Ogni tanto pubblica delle screen inedite del suo capolavoro completamente italiano al 100% E poi se vi va potete anche seguirmi sia a me su Instagram, link in descrizione E soprattutto se avete altro, se volete vedere altre screen Con come base, di fondo la Mappa Italia Andate a seguire anche il Niko87, non è diciamo una pubblicità Però comunque anche lui, essendo che è il suo Mi vede il termine Vabbè, comunque è il suo supporto ufficiale per quanto riguarda le preview Quindi pubblica, quando fa le preview pubblica spesso alcuni screen che fa con installatori Melli che usa E quindi andate a seguire anche lui E anche, c'è da dire anche da seguire il team SMI Perché soprattutto loro Che saluto e ringrazio dell'aiuto che mi danno ogni tanto Quando vi faccio delle domande su Instagram E niente Di cosa mi sono già perso Panico Comunque vi invito a seguire anche il team SMI Perché lì troverete anche gli announcements Nelle prossime modi che porteranno E anche del benedettissimo amico Mappa Italia Comunque mi sto perdendo Spero che vi abbiate capito Ho fatto spazio che comunque Iniziamo la trebbiatura Guardate che bellissima trebbiatura Devo dire che questa mappa Sembra tipo una shaders Molto particolare Molto molto bella Infatti vedete che Anche su Instagram sono apparsi un sacco di post Molto molto carini Inerete A questo momento E quindi niente Adesso stiamo trebbiando Poi dopo andremo anche a imballare Ma nel prossimo episodio Penso Sì credo Non mi ricordo Perché non l'ho editato da poco questo video È da bel po' che ho editato E vabbè Momento screen per Instagram Un po' di screen Che ne faccio 27 E poi dopo ne pubblico 2 E va bene Però Continuiamo il nostro discorso di mappe È spuntato su Instagram Questa domanda Anche adesso vi faccio vedere Vi faccio vedere Che cavolo dico Adesso andiamo su La nostra pagina Andiamo a vedere se qualcun altro Ha risposto Ha risposto a uno di voi Un mio Carissimo followers Che La domanda è inerente Alla ItalianRise XL Dove MirrorDread Ha fatto la presentazione Dove Io sono andato a vedere La presentazione Che È molto È molto particolare Diciamo che Adesso non per discriminazione Però Non è una presentazione Alla Niko 77 Ecco È una presentazione A modo suo E Quindi Ecco Il fatto che Sulla prima Sulla prima versione Dell'ItaliaRise Ci siano state molte cose Un po' La carlona È Un po' Un grosso problema Difatti Io Ho Praticamente L'avevo installata Poi dopo Non l'ho più Installata Perché Cioè L'avevo installata Poi dopo Avevo detto Sì dai Giochiamoci Poi avevo iniziato A giocarci Poi non avevo salvato Mi era cresciato Il computer Cioè Mi era cacciato il computer Mi si era aspetto Il computer Quindi Eh Menate varie Fatto Stacche Io Ci volevo giocare Per qualche periodo Ci giocavo Praticamente Entravo Prendevo un camion E poi Andavo a zonzo E Niente L'unica risposta Che Ho avuto È Io ci giocherò Soprattutto Perché è una bella mappa Ma anche Perché è italiana Secondo È È migliorata Secondo me È migliorata Allora A livello Di miglioramenti Può rarsi Che vuol dire di sì Però Da quello che so Che hanno detto Non è ottimizzata Benissimo E Ci sono alcune cose Che fanno un po' In bestialire Cioè In bestialire Tutti i pochi Mi fanno girare Un attimo Gli amici Lì sotto E Quindi Non è che Posso farti nulla Io Devo essere sincero Vorrei Giocarci Ci giocherò Di sicuro Soprattutto perché poi Il Hanno rifatto Il cento Di tanto un po' più bello Io ci giocherò Ma solo Non Per farci una serie Perché a me poi Quella mappa lì Non piace tanto Perché poi È troppo Dispersiva Si perde troppo Invece Cioè mi piace Mi piace molto Come ho risposto Difatti Arrivo qua a rispondere Che ho Risposto alla storia Dicendo Diciamo che Che bella Non è A livello di texture Ma di design Sì Ovvero Adesso mi spiego meglio Perché forse Non avete capito Penso che Non hanno capito Neanche Che a visualina Della storia Però comunque Non è Bella Perché Non ha Quei dettagli Cioè Io l'ho messa Infatti Ho risposto Con Non compete Con la mappa Italia Di Hello Mode Ma Cioè Sì Sono farelli personali Difatti Io sono Totalmente Contrario A dire No Quella mappa Fa schifo Non è bella Però A me piace Molto di più Lo stile Che ha usato Edo Per fare La mappa Italia Perché a me piace Molto Difatti Non so Cioè Difatti Io Non giocherei Mai E Se non mi Facesse Lo stile Che ha Che ha Usato Edo Per fare La mappa Italia Non avrei Mai Avviato Questa Partita In una Mappa Così Stretta Con Dei Medzi Così Piccoli Ad esempio La Holland Cheveld Comunque La mappa Quella Olandese Lì L'ho Aperta Perché Mi piaceva Un po' Per i Campi E poi Perché Volevo Iniziare A durare Un po' Di Medzi Un po' Più Nuovi Invece Che Sempre Old Sempre Old Però Qual è Il problema Adesso Non ci sto Neanche più giocando Perché Poi Hai Campi Molto 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 Grandi Quindi Si impiega Molto Per giocarci E soprattutto Poi Io sono Sempre Da solo Non ho Grandi persone Che mi danno Una mano A A giocare E poi Soprattutto Non ho Una connessione Molto Molto Ottima Cioè Non ho Una connessione Ottimale Per poter Giocare Senza La gara Eccetera Infatti Avevo provato A fare Qualche Qualche Cosa Inerente A A fare Qualche partita Su farming Adesso Ho un'altra Screen E Sempre Sulla Holland Che Quella lì E Purtroppo Non riuscivo Gli altri Non riuscivano N'entrare In partita Perché La mia Connessione Non Non Permetteva Perché Non aveva Non aveva Abbastanza Potenza Per poter Effettuare E Fare Da host Purtroppo Non Cioè Adesso Ci sto Giocando Praticamente Fabio Che Sponde Con Non lo Sa Ancora E Fa ridere Questa Cosa Qua No Comunque Io Sono Riuscito Diciamo A fare Un po' La parte Del Non Del Oddio Voglio sapere Qualcosa Di più Di Questa Mappa Ma Fare Molto La parte Del L'amichevole Di fatti Molte Volte Anche Ad